Sorrido perché no, potrei essere uno degli unici portieri a non aver mai subito gol da Leo, ma devo anche dire che non ho mai giocato contro, per cui questo è un dato molto importante che rendo onore a me come portiere. L'unica volta che potevo giocarci è stata un amichevole fra Barcellona e Juve, solo che ero infortunato e ogni tanto sorrido perché ripenso al mio amico Camoranesi che mi raccontava sempre che eravamo nel sottopassaggio, io ero fuori infortunato e c'era Messi che doveva fare la prima partita nel Barcellona, aveva 17 anni, ora non mi ricordo. Allora Camoranesi in argentino gli si è avvicinato e ha detto mi raccomando non essere nervoso, vai tranquillo, gioca come se fosse una partita normale coi ragazzi e a fine primo tempo venne da me e mi disse ma sto qua l'hai visto? Era rimasto chiaramente incantato perché aveva dato dei consigli a lui ma avevamo visto che non ce n'era bisogno.